In collaborazione con E' mancato il finale col botto perché la Feralpi un po' sorpresa esce sconfitta da quello che è l'ultimo match del 2015. Una sconfitta che non ci deve far cambiare l'idea su quello che è stato un anno comunque da incorniciare. Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Feralpi Salon News, il rotocalco dedicato alla Feralpi, ai Leoni del Garda. Come sempre ci occuperemo di prima squadra ma parleremo anche di settore giovanile, lo faremo con due preparatori che sono tornati a trovarci. Alla mia sinistra c'è Demi Saracagni che è il preparatore degli allievi, bentornato. E all'estrema sinistra, solo dal punto di vista della collocazione logistica, troviamo Alessandro Rossi che è il preparatore dei giovanissimi. Benvenuti ad entrambi. Andiamo però come sempre con ordine, andiamo a vedere che cosa è successo in quest'ultima gara del 2015 con il contributo della regia. Vediamo quali sono stati i risultati di questo turno del campionato di Lega Pro. Ancora una volta, credo di poter dire, l'incertezza regna sovrana. Ancora una volta non sono mancati i risultati che possiamo considerare sorprendenti. Il Cittadella vince la sfida che profumava in qualche modo di promozione, se non altro in virtù a quello che è la tradizione di queste due squadre, la sfida con la Cremonese, 1-0 all'Ozzini. La sconfitta interna per molti versi in attesa della Feralpi Salò contro il sorprendente Gian Erminio, 2-0 il finale. Torna la vittoria dal successo in Lumezzane, vittoria questa importante a spese dell'Albino Leffe per il Rosso Blu. Mantova pro patria si chiude invece sull'1-1 con la squadra ospite a lungo in vantaggio raggiunta soltanto nel finale di partita da un Mantova che ha dovuto poi fare i conti anche con la contestazione dei propri tifosi. Padova e Bassano si dividono la posta, finisce infatti 1-1, uno dei tanti derby veneti. Vittoria fuori casa del Pavia che rialza la testa andando ad imporsi 2-0 al Pordenone. Pareggiano Reggiana e Alessandria, dunque un piccolo stop per i grigi di Gregucci. Vince in casa il Renate a spese del Cuneo e infine vittoria del City Roll di Giovannino Stroppa, 2-1 il punteggio a spese della Pro Piacenza. Per una classifica che adesso vediamo insieme. Dunque c'è il sorpasso del Cittadella a spese dell'Alessandria. In questo momento sono i Veneti a guidare la classifica con 32 punti. Poi troviamo l'Alessandria a quota 31. Il Bassano che stacca in questo caso la Feralpi portandosi a quota 28, Feralpi a 27. In coda, situazione apertissima anche perché la Pro Patria ha cominciato improvvisamente a far punti e a rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. È ovvio che in questo momento per i Bustocchi il primo obiettivo è evitare l'ultimo posto. Poi mucchio selvaggio, ma attenzione perché le distanze tra Mantova e Pro Piacenza e Lumezzane cominciano a farsi pericolose in prospettiva. Deludente fino a questo momento il campionato di Cremonese e Padova. Due squadre che erano indicate tra le possibili protagoniste. Mentre continua a stupire la Gianna Erminio che è formazione al suo primo campionato di Lega Pro. Però quello che dicevamo prima credo che alla fine continueremo a ripeterlo per tutta la stagione. C'è un campionato molto difficile da interpretare. E' un campionato equilibratissimo. Un campionato all'interno del quale impari di poter dire la prima può perdere con l'ultima. E quindi da questo punto di vista può succedere che una squadra come la Feralpi che è anche una squadra relativamente giovane incappi in una giornata negativa come è successo con il Gianna Erminio. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Come abbiamo visto la classifica è talmente corta che si può passare di tutto. Quindi il campionato è lungo. Come hai già detto tu prima, sicuramente fino ad oggi è stata fatta una parte di campionato secondo me più che positiva. Poi è logico, è un campionato anche abbastanza schizofrenico nel senso che ci sono realtà, ad esempio come la Cremonese si è visto prima come il Padova, realtà comunque importanti che fanno fatica ad amalgamare Mantova. Esatto, quindi è un campionato aperto secondo me è anche il più difficile, il Girono è più difficile dei tre, di conseguenza ci sarà da lottare fino alla fine sicuramente. Io direi anche non solo il più difficile, secondo me è anche qualitativamente il campionato più impegnativo, questa è la mia impressione. C'è un'impressione che chi è primo nel campionato del girone A di Lega Pro diciamo che con buona probabilità sarebbe primo anche negli altri due gironi, la pensi così Alessandro? A livello di qualità sicuramente sì, perché ogni squadra comunque ha dentro dei giocatori importanti, a partire anche dalla stessa Feralpi Salò e quindi è per quello che ogni squadra comunque se la giocano da prima, come dicevi prima può perdere con l'ultima, perché comunque a livello di qualità le squadre sono lì, i giocatori. Quindi normale insomma. Tra l'altro facciamo i complimenti ad un Bresciano che sta ottenendo grandissimi risultati in Lega Pro, sto parlando di De Zerbi, che è al comando della classifica del girone C della Lega Pro con il suo Foggia, bisogna fargli i complimenti, tra l'altro ha iniziato da calciatore a Brescia senza riuscire fino in fondo ad essere profeta in patria, perché questa è la realtà e anche da allenatore aveva cominciato qui nella nostra provincia, ma anche in questo caso non è riuscito ad essere profeta in patria, è stato costretto a spostarsi in Puglia, lui a Foggia ha costruito una parte importante della propria carriera, quindi diciamo che è ben visto, estimato, apprezzato, ma al di là poi di quello che sono le dichiarazioni di intenti, sono i risultati, quelli che parlano di Foggia in questo momento al primo posto della classifica, quindi chapeau nei confronti di De Zerbi. E invece andiamo a vedere che cosa è accaduto in questa sfida, che sulla carta sembrava semplice rispetto agli ultimi avversari con cui la Feralpi si è dovuta confrontare, invece si è rivelata una sorta di trappola mortale e purtroppo Aimodiana ha dovuto arrendersi a questa imprevedibile Giano. Andiamo a vedere i riflessi filmati del match. La Feralpi Salò si regala un Natale con il bronzo. Dopo gli elogi e la festa per l'impresa di Cittadella i leoni del Garda cadono nuovamente tra le mura amiche. A rendere amaro il panettone del patron Giuseppe Pasini è la Gianna Erminio capace di imporsi 2-0 con le reti di Marotta nel primo tempo e di Perico nella ripresa. Troppo brutta per essere vera questa Feralpi Salò con la testa, apparentemente già alle vacanze, è ancora in estasi per avere spugnato il campo della capolista Cittadella. Suona l'allarme in casa verde-blu alla luce della quinta sconfitta in otto gare sul terreno amico dell'Innoturina. Un cammino assai diverso tra casa e trasferta, Feralpi Salò implacabile in trasferta vulnerabile sulle sponde del lago. Aimodiana deluso per la prova della sua squadra, Eugenio Olli non fa invece drammi a fronte di una classifica ancora buona con il quarto posto in tasca e i 27 punti conquistati in 16 giornate. Già Nerminio, cinica e pratica nello sfruttare a dovere le sbavature della difesa salodiana, che l'aria prenatalizia non sia delle migliori, lo si intuisce già al secondo minuto di gioco quando Marotta raccoglie una palla vacante in area respinta dalla traversa portando avanti i suoi. La reazione della Feralpi Salò è pressoché inesistente Romero, Racaletti e Greco hanno le polveri bagnate. E così al diciannovesimo della ripresa Perico inventa una giocata di classe con un colpo di tacco che trafigge nuovamente Caglioni e chiude la sfida. Arrabbiati e desiderosi presto di tornare in campo, i Leoni del Garda puntano ora ad un 2016 ricco di soddisfazione. Mamma mia che gol il secondo straordinario, non so quanto cercato, però una prodezza incredibile, sei d'accordo? Sì, infatti. Poi succede che in capi in queste domeniche un po' storte dove la squadra tra virgolette sfavorita fa due. Il primo gol non è stato un euro-gol, però il secondo è stato veramente un bellissimo gol, di conseguenza è anche difficile anche moralmente ripartire perché comunque… Alessandro, gol strepitoso in secondo, incredibile, oltretutto dal limite dell'area riesce a trovare l'angolino basso di tacco, probabilmente il portiere è partito in ritardo perché giustamente non se l'aspettavano a conclusione di questo genere. Gol incredibile, sicuramente. Il classico gol della domenica. Eh sì, proprio il gol della domenica. Ciò non toglie però, come dicevamo prima, che il bilancio di questo 2015 per la Feralpi, per la società e del Presidente Pasini sia un bilancio, Alessandro, più che positivo nel suo complesso. Mettiamoci anche i risultati ottenuti dal settore giovanile, mettiamoci quello che ha saputo fare la prima squadra, insomma, nel 2015 che va agli archivi con piena soddisfazione, sei d'accordo? Sicuramente, ma con questo quarto posto adesso della prima squadra corona tutto un lavoro che come dicevi tu parte anche dal settore giovanile, dai grandi risultati che stanno ottenendo le squadre nel settore giovanile. Certo. Allora facciamo una pausa e poi torniamo insieme per occuparci appunto dell'evocato più volte settore giovanile. Tra poco dunque di nuovo insieme per la seconda parte di Feralpi Salò News, restate con noi. Allora di nuovo insieme con la seconda parte di Feralpi Salò News con Demis Raccagni che è il preparatore della squadra allievi del settore giovanile della Feralpi e Alessandro Rossi che pure fa il preparatore ma segue i ragazzi della categoria giovanissimi. Allora com'è congegnato, com'è organizzato, com'è strutturato e quali sono le ambizioni. Abbiamo già avuto modo nelle settimane passate di conoscere sia Demis che Alessandro, quindi per noi è come dire un ritrovarsi. Dicevamo di come, abbiamo più volte sottolineato di come i risultati della prima squadra possano essere un traino fondamentale per il lavoro dei ragazzini, per il lavoro dei più giovani. Continua ad essere così da questo punto di vista? Quindi da questo punto di vista c'è stato un miglioramento visto i risultati ottenuti dalla Feralpi nell'ultimo periodo? Lo chiedo a Demis. Sì, sicuramente le ambizioni della prima squadra favoriscono anche la serenità e la voglia appunto dei ragazzi più giovani di arrivare, perché comunque l'obiettivo principe è quello di arrivare per molti ragazzi, perché comunque hanno la fortuna di giocare in una squadra importante, in una società molto importante e di conseguenza vedere comunque una prima squadra che va bene, che ottiene risultati, va a incentivare anche quello che è il lavoro dei ragazzi stessi, perché comunque vedono come esempio di conseguenza. Una cosa bella è che vedo parecchi dei miei ragazzi che vanno allo stadio, che seguono anche proprio la prima squadra. Diciamo che si sono affezionati alla prima squadra. Assolutamente sì, è un obiettivo per molti. Tu segui gli allievi, quindi vuol dire che sono ragazzi nati… 99-2000. 99-2000, mentre i giovanissimi appartengono a che… 2001-2002. Quindi un po' più piccoli, un po' più giovani diciamo. Per cui insomma anche per te vale lo stesso discorso, il fatto che la prima squadra stia ottenendo dei buoni risultati serve a fare da promozione a tutto l'ambiente, è così? Sicuramente, perché le ambizioni che crescono appunto nella prima squadra fanno crescere le ambizioni anche nel settore giovanile. Si cerca di lavorare sempre meglio per comunque andare a realizzare queste ambizioni. Per quanto riguarda invece il vostro lavoro, vi venite io credo entrambi dalla laurea in scienze motorie, dico bene? E anche questo è un punto di distinzione per la Feralpi, cioè la ricerca di una professionalità, di una competenza che sia all'altezza di quelle che sono le richieste che vengono poi dal basso. Come si lavora con una squadra che appartiene al settore giovanile? Si imposta il lavoro all'inizio e si decide di puntare, che so, è evidente che, facciamo il discorso in maniera un po' più ampia, è evidente che lo scopo principale della preparazione atletica è quello di mantenere uno certo stato di forma il più a lungo possibile. No, questo è il sogno di tutti, essere sempre all'apice. Però non è così perché c'è una fase nella quale di solito si tende a salire a livello di preparazione e poi si effettuano i richiami etc. Ecco, da questo punto di vista come avete impostato, come hai impostato tu Alessandro il lavoro? All'inizio si fa sempre comunque una preparazione appunto per affrontare il campionato e poi i vari allenamenti vengono posti in base soprattutto alla squadra, perché poi i miei comunque essendo giovani rispetto a quelli che c'ha Demis, essendo più giovani lavori di più col pallone magari piuttosto che lavorare sul fondo comunque per gli fare fiato, quindi è un lavoro un po' più semplice diciamo su quel riguardo lì. E poi sicuramente durante gli allenamenti hanno miri e di amichevoli durante la settimana e quindi già anche solo quegli stessi allenatori si allenano tranquillamente. Noi diciamo siamo qualcosa in più e come dicevi tu cerca di mantenere appunto il livello atletico lineare durante tutto l'anno. Demis, ma si lavora anche sulla capacità aerobica a quest'età quando sono così piccoli? Sicuramente la metodologia è diversa dall'età. Io ho notato proprio anche forti differenze perché ho avuto la fortuna di stare in prima squadra tanti anni, di conseguenza spostarmi sul settore giovanile ho proprio notato delle forti differenze. È logico che i ragazzi già comunque quest'anno tipo gli allievi che iniziano a avere 16-17 anni, tu mi insegni che varie capacità in questo caso condizionali sono già ben sviluppate di conseguenza e la possibilità di lavorare anche in modo diciamo più ben definito, più definito sulle varie situazioni. Quindi ripeto c'è la possibilità di ragazzi che veramente nell'arco di un paio d'anni, un anno, due anni al massimo, se hanno veramente il cosiddetto talento possono arrivare già in prima squadra. Quindi anche l'allenamento stesso, quindi anche la preparazione atletica viene comunque fatta in modo tale che il ragazzo possa iniziare a creare le basi per arrivare comunque a giocare tra i grandi. Il fatto di avere ragazzi che non hanno ancora un fisico del tutto formato deve indurre a riflessioni di un certo tipo nel momento in cui si prepara quello che sarà il percorso e quindi la preparazione? Ne devi tener conto ovviamente? Sicuramente sì, sicuramente sì, anche se la fortuna di oggi è avere comunque ragazzi già comunque con un bagaglio strutturale importante perché comunque tu mi insegni che già nel settore giovanili professionistici la fisicità è molto 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 ricercata, molto importante. Quindi ad esempio noi quando giochiamo con squadre tipo Milan, Inter, piuttosto che squadre di serie A, lì proprio la fisicità è portata all'estremo perché cercano proprio il ragazzo standard, 1,80 m, perché comunque se tu guardi la serie A comunque i fisici sono quelli. Nel settore giovanile professionistico comunque sì, c'è già comunque la ricerca di questo. È logico che noi dobbiamo adattarci comunque anche all'individuo, nel senso che non possiamo fare un allenamento definito uguale per tutti. Abbiamo anche la fortuna di lavorare in sinergia col mister, quindi tante volte il mister prende alcuni giocatori, altri li lascia a noi, in modo tale che possiamo andare anche a dividere all'interno del gruppo a seconda delle caratteristiche fisiche di ognuno. Quindi si possono fare dei lavori mirati anche perché ci alleniamo più volte rispetto a un settore giovanile provinciale o regionale. C'è anche una cultura del mantenimento che va in qualche modo inculcata nei ragazzi, perché poi è evidente che puoi mantenere lo stesso livello di forma a patto che tu continui ad allenarti e questo è normale, ma devi fare attenzione anche al tuo stile di vita, anche se a questa età può quasi far sorridere parlare di stile di vita, però è evidente che se uno fuma, va a letto sempre alle tre di notte, piuttosto che mangiare in maniera smisurata, hai voglia di fare preparazione, è così Alessandro? Sì, sicuramente. Si cerca quindi di incidere anche sullo stile di vita di questi ragazzi? Per fortuna abbiamo lavorato tutti in gruppo anche a livello nutrizionale con nutrizionisti, abbiamo fatto degli incontri e anche ogni singolo ragazzo è stata data non proprio una vera e propria dieta, ma dei consigli nutrizionali appunto per questo mantenimento di stile di vita. Ma il tipo di programma che naturalmente fai svolgere i tuoi ragazzi, viene concordato anche con gli altri preparatori oppure ognuno segue una sua strada, come funziona? No, facciamo delle riunioni, troviamo, facciamo delle riunioni in cui ognuno porta il proprio lavoro, la propria esperienza, la propria esperienza, il proprio lavoro e cerchiamo di accumulare comunque tutti insieme, anche perché i miei ragazzi di oggi magari potrebbero essere i suoi ragazzi di domani. Certo, questo è un periodo anche un po' particolare, perché adesso i campionati si fermano, quindi insomma i ragazzi poi anche loro sono sollecitati ad una serie di, come possiamo definirli, di incontri festaioli, diciamo così, per cui adesso c'è il pranzo alla vigilia, Natale, Santo Stefano, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno, gli orari che vengono stravolti, date consigli anche da questo punto di vista, ragazzi attenzione, cercate di, è così? Sì, 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 diamo anche una preparazione a posto specifica da fare a casa. Da fare a casa. Sì, e poi quando rientrano da questo periodo, appunto, controllo comunque, esatto, seguiti, peso, altezza, monitorati. Come se fossero una squadra di Serie A. Sì, ma anche perché, ripeto, non è da tutti, ma perché è la realtà, non è da tutti avere la fortuna, lo dico sempre ai miei ragazzi, avere la fortuna di giocare comunque in un settore professionistico, nel senso che al di fuori del cancello dell'allenamento ci sono 200 ragazzi che verrebbero a piedi mudi, quindi la responsabilità è anche loro, loro sanno che a scuola si devono comportare in un certo modo, sanno che l'alimentazione è importante, sanno che l'allenamento è importante e quindi diciamo è proprio uno stile di vita, se hanno il sogno di fare i calciatori. Devono comunque tenerne conto. Esatto, esatto. Ma cosa consiste? Abbiamo ancora pochissimi istanti, la tabella che preparate, cosa sono, esercizi, corsa, soprattutto che cosa c'è? Sicuramente c'è un po', diciamo, un riassunto di quello che viene fatto durante la prima parte di campionato, in modo tale che comunque loro conoscono, gli viene specificato, poi comunque loro hanno anche un aiuto con degli strumenti che gli servono appunto per monitorare il loro stato, ad esempio durante la corsa, con cardiofrequenzimetri piuttosto che altri strumenti, GPS, in modo tale che possano vedere un attimino quello che stanno facendo. Poi ripeto, sono ragazzi che ormai sono già responsabilizzati sotto questo aspetto e quindi è anche molto più facile lavorare. Bene, siamo in chiusura di questo appuntamento. Io ricordo che la prossima settimana avremo una puntata speciale perché chiuderemo l'anno, chiuderemo il 2015 con una lunga intervista col presidente patron della Feralpi Salò, cioè Giuseppe Pasini, con il quale faremo il punto sul 2015 che ci apprestiamo a mettere in archivio. Per quest'oggi è tutto, grazie a Demis Raccagni, preparatore degli allievi e ad Alessandro Rossi, preparatore dei giovanissimi, a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana con la puntata speciale e l'intervista a Giuseppe Pasini. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Grazie.